Riprendono i combattimenti nella città siriana di Aleppo dopo la tregua umanitaria di 10 ore proclamata unilateralmente dalle forze russe siriane. Secondo i ribelli l'aviazione siriana nella giornata di sabato ha bombardato pesantemente la città. L'agenzia ufficiale siriana Sana conferma attacchi nei quartieri a ovest e sud ovest di Aleppo con uccisione e ferimento di decine di ribelli armati. Gli attacchi aerei a ovest della città sarebbero stati una trentina. La giornata è proseguita senza scontri invece nella parte orientale della città che si trova in mano ai ribelli ed è assediata dalle forze governative. Uno dei motivi della tregua era consentire ai civili che si trovano nei quartieri orientali di Aleppo di lasciare la città, fatto che non è avvenuto. Durante la tregua d'altronde si è combattuto in villaggi alle porte di Aleppo e ci sono stati bombardamenti con almeno 18 morti tra i civili. Un allarme sui rischi che corre la popolazione con la fine della tregua e il riaccendersi degli scontri era stato lanciato da Amnesty International giorni fa.